Un ordine del giorno contenente tre proposte concrete e realizzabili per dare una risposta ai problemi di illegalità che attanaiano Prato. A presentarlo sarà il consigliere comunale di Prato Libera e Sicura Aldo Milone in occasione del Consiglio Comunale sulla Sicurezza che dovrebbe tenersi a giugno alla presenza di un rappresentante del Governo da cui si attende una conferma ufficiale. Le tre proposte sono state presentate stamani dall'ex Assessore alla Sicurezza. Noi abbiamo oltre a problemi di sicurezza un'illegalità economica spaventosa, si è sempre parlato di un'evasione anno intorno al miliardo e al miliardo e mezzo. È il momento in cui il Governo faccia delle modifiche amministrative, neanche legislative, per quanto riguarda l'inserimento di una fidegliussione per le aziende stranieri che aprono un'attività in Italia. Guardate, avviene in tutti gli altri paesi del mondo. In Cina la stessa Cina prevede il socio cinese, in Mongolia addirittura si parla di 100 mila dollari di cauzione, perché non farlo in Italia? La seconda proposta riguarda il cambio di criteri di assegnazione delle piante organiche e delle forze dell'ordine. Prato è penalizzata perché la calibratura viene fatta sul numero di abitanti della provincia. E questo è sbagliato completamente, perché bisogna valutare le criticità di una città. Se una città la cui provincia è più piccola di un altro capoluogo, ma ha problemi di sicurezza ben maggiori, bisogna che questa città venga attenzionata con un aumento di organici. Terza proposta è portare di nuovo alla ribalta il problema degli organici amministrativi del Tribunale per evitare l'effetto imbuto. Le tre idee messe sul piatto da Milone saranno contenute nell'ordine del giorno che sarà presentato nel Consiglio Comunale sulla sicurezza. Questi tre elementi vanno affrontati con un documento, e spero che sia unitario in quell'occasione, e portata l'attenzione, come dicevo prima, con dei tempi. Grazie a tutti.